Buonasera, su questa rete tornano le inchieste di report e si parte proprio dalla emergenza Covid-19. Buonasera Sigfrido Ranucci. Buonasera, sì, questa sera partiamo con... abbiamo trovato un paziente 1 prima di Mattia e poi l'inchiesta è centrata sul piano nazionale contro le pandemie, era del 2010, dovevamo aggiornarlo ogni tre anni, non l'abbiamo fatto, avrebbe potuto consentirci di stoccare le mascherine, oggetti tanto importanti in questi giorni. Poi avremo delle immagini esclusive da Wuhan, avremo dei fix all'interno dei compound blindati, ci raccontano il lockdown e forse scopriamo che la Cina non ci ha detto proprio tutto su quello che è accaduto in questi giorni. Grazie, buonasera alle 21.20 su R3. Prima di salutarvi vi ricordo...